Verrà inaugurata il 14 luglio presso il carcere Borbonico sul Castello Aragonese una personale dell'artista Jean-Pierre Orroux. È stata organizzata da Giorgio Brandi che ci spiega chi è quest'artista e per quanto tempo sarà aperta la mostra. Jean-Pierre Orroux è un carissimo amico, giovane come artista, però ha un'età vicino alla nostra. Lui si è avvicinato all'arte in epoca recente, è dal 2010 che ha iniziato questo suo percorso artistico. Un percorso artistico che ha mediato dalla sua attività lavorativa. Lui in effetti è responsabile, te lo leggo perché non ricordo la cosa, presso l'ospedale Niguarda di Milano dell'unità spinale unipolare dove fanno questi laboratori di arte, musica, pittura e da questi laboratori lui ha tratto ispirazione per le sue opere. È un artista che ha avuto una vita molto difficile perché è figlio di emigranti sardi in Belgio, nelle miniere di carbone e quindi da questo profondo nero è riuscito a emergere con dei colori vibranti, soprattutto nei suoi cadri, ma quello che colpisce di più sono le sue sculture. Sculture sia in pietra che in legno che hanno, io amo dire che la scultura deve avere un gusto tattile, cioè la possibilità di poterle toccare. E da lì senti la vibrazione, cioè di questo artista giovane che sta crescendo e a me ha fatto molto piacere fargli questa personale al carcere borbonico del Castello.